Dopo aver accarezzato la vittoria nel match interno con la Lucchese, il Pineto del nuovo corso targato a Roberto Beni fa centro in trasferta a Pontedera, conquistando una vittoria che mancava dal 3 dicembre scorso contro il Sesti Levante. Gara pazza, dallo 0-2 in favore dei Biancazzurri al 2-2 con la formazione toscana che nel momento di maggiore pericolosità si è dovuta inchinare alla prodezza balistica di Lombardi. E allora vediamoli questi 5 gol. Il vantaggio pinatese arriva al ventesimo, grande azione sulla destra, Volpicelli innesca San Nipoli che serve subito a centro aria gambale che deve solo spingere in porta, terza rete stagionale del centro avanti Biancazzurro. Il bis, due minuti dopo, Volpicelli è devastante, parte dalla sua mattonella e arriva fino alla linea di fondo, palla al centro per la corrente Giambè che segna anche lui il suo terzo centro stagionale e festeggia alla sua maniera, ovvero con la proverbiale Capriola. Ancora Pineto al 34esimo, Ciocci deve respingere il mancino di Manu. La reazione della Pontedera arriva nella ripresa, nono minuto, Angori sfrutta un rimpallo tra ganze e tonti e accorcia le distanze. Al sedicesimo, Peli completa la rimonta toscana con una botta dal limite imparabile per tonti. Potrebbe essere una mazzata per il Pineto, ma non è così perché al ridosso del novantesimo arriva il Tris e una magia di Lombardi, tiro a giro con il sinistro sotto l'incrocio dei pali, primo centro del regista Biancazzurro. Finale acceso con espulsione di ingrosso, ma il Pineto può esultare portandosi a casa tre punti preziosi in chiave tranquillità. Grazie.